Davide abbiamo sentito Carlo su The Pole ci dice capisco il giocatore non è in un buon momento in generale lui lo vede anche un po' slegato da dall'ambiente atletico probabilmente anche un po' il mondiale tutto il resto però dice io non so se in assoluto lo consiglierei alla Juve e sicuramente di argentini Carlo se ne intende anche rispetto al loro momento no storico l'evoluzione della carriera però dice però capisco che una Juve che sta subendo diciamo la squalifica dalle coppe eccetera deve ripartire può anche avere una logica un nome come The Pole ma io penserei ad altro dice lui tu tra questi sei sette nomi che circolano forse meno quattro cinque togliamo gli estremi che è Frenturam che costa cinquanta milioni eccetera cioè per gennaio hai una speranza specifica Davide? No nel senso che secondo me per come è la situazione societaria non o si fanno investimenti proiettati al futuro oppure non non vale la pena farle questo è scritto a chiare lettere sia nella nella nel documento in accompagnamento all'aumento di capitale che nel anche nell'ultima trimestrale che mi sembra anche nelle politiche che sono state varate da dalla dirigenza Juventus oggi la Juve non è non è più una società che deve fare investimenti o non si può più permettere di fare investimenti orientati al breve termine come secondo me sarebbe l'investimento The Pole ma deve fare investimenti proiettati al medio lungo che poi possono essere utili anche nel breve per quello secondo me se a gennaio si trova l'occasione giusta anche fossero 35 40 milioni la società li prende sicuramente in considerazione se c'è la possibilità ovviamente di ovviamente di fare anche perché ripeto il nostro parco giocatori è un parco di giocatori che ci permette secondo me anche di pensare potenzialmente a un investimento importante a gennaio sapendo che poi lo recuperi entro giugno non dimentichiamo che noi abbiamo 10 milioni andiamo un attimo nei numeri Juve con Davide che è importante prego dicevo non dimentichiamoci che noi abbiamo potenzialmente 10 milioni che si possono liberare 10 milioni intendo la somma di ammortamento e stipendio che sono quelli di Pogba sì che però abbiamo capito che che difficilmente la Juve libererà durante questo esercizio per il discorso di mantenere decreto crescita o no non lo so questo è quello che percepiamo ecco ma sai alla fine non è che faccio tutta questa gran differenza eh nel senso che sono sei mesi perché se non sbaglio è primo gennaio venti venti quattro che eh non ha l'effetto retroattivo quindi da primo gennaio venti venti quattro ok tu hai letto tutti i documenti vari e anche alcune analisi credo rispetto poi all'effettuarsi del dell'aumento di capitale forse anche qual è il vero piano non so se è stato scritto meno chiaro il nuovo piano di riorganizzazione a livello finanziario della Juventus eh ricordiamo eh 397 milioni l'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2023 115 milioni gli effetti negativi diretti indiretti degli eventi soccorsi 20 per cento scontati nel 22 23 80 per cento 23 24 cosa vuol dire significa che questo come avevamo già detto se ti ricordi quest'estate quando facevamo un pochino la lettura della palla di cristallo eh quest'anno sarà un esercizio in perdita e già la trimestrale lo ha lo ha dimostrato sebbene sopra i cento sopra i cento di perdita la mia stima è che si attesti tra diciamo i 130 e 160 eh come perdita e ma banalmente perché abbiamo eh i i proventi in meno che arrivano dai diritti tv e poi ovviamente anche dal botteghino della Champions che comunque sono quasi tutte partite che vanno sold out quindi quello è sicuramente un quello è sicuramente un un elemento da da tenere in in considerazione e questo ha ovviamente un un impatto eh però ripeto i parco giocatori e determinate operazioni che possono essere fatte possono cercare di ridurre un pochino il il negativo per quello io penso ma questa è una mia diciamo opinione personale che ci sia che questo aumento di capitale sia il primo passo di un percorso che eh dovrà vivere necessariamente di ulteriori rafforzamenti patrimoniali da capire come potranno essere fatti questo io non diciamo al momento non ho non ho alcuna visibilità in merito per cui sto facendo solamente speculazioni ragionando un pochino sulla base dei numeri la trimestrale ha dimostrato come il patrimonio netto fosse andato in negativo eh questo aumento di capitale serve per ripianare il patrimonio e per iniziare quel percorso di eh probabile non rifinanziamento del bond che va a scadenza a febbraio 2024 e che probabilmente verrà liquidato in parte utilizzando i proventi dell'aumento di capitale in parte utilizzando 170 milioni di euro di linee di credito bancarie non ancora utilizzate per cui andranno ad abbassare l'indebitamento questo c'è scritto nel documento di aumento di capitale è il primo obiettivo eh dei con cui eh di utilizzo dei soldi che prove delle risorse finanziarie che 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 arriveranno ad un aumento di capitale e poi c'è un tema di mantenimento della competitività sportiva mantenimento della competitività della competitività sportiva significa continuare il percorso di valorizzazione della rosa di razionalizzazione della rosa nel quale si innesca il percorso dei rinnovi contrattuali che vengono stanno sono in corso eh ma qual è la la razio per cui parlo con tutti allora punto numero uno abbattere un pochino l'ammortamento dei cartellini punto numero due rendere i contratti meno onerosi di quello che possono potenzialmente essere cioè io penso che quando si andrà a rinnovo con Blauvic le cifre saranno diverse verrà mantenuta la parte fissa abbassata la variabile non ci saranno gli scaglioni anno dopo anno che rendono ovviamente il contratto più complicato magari ci saranno delle clausole recessorie questo per facilitare anche l'eventuale diciamo cessione del del giocatore a club che hanno tutta intenzione tutta l'intenzione di volerli di volerli venire ad acquistare questo va in quel percorso e poi c'è un tema anche di più svalenze sane chiedono perché alcuni calciatori dovrebbero accettare un contratto dove guadagnano meno no non guadagnano meno perché magari alcuni bonus saranno abbassati più facilmente raggiungibili verranno alzati bonus magari legati alla vittoria di trofei che quindi danno bonus superiori ma che permettono alla squadra di incamerare i ricavi quindi si cerca di legare le parti variabili dei giocatori alle parti variabili che del club no cioè se andiamo tutti bene tutti ci guadagniamo certo ok quindi questo è un po il percorso che io vedo che però passerà necessariamente da altri passi di rafforzamento patrimoniale perché questo aumento di capitale è una parte importante che mette diciamo così una importante toppa uso questo brutto termine perché in questo momento non me ne viene uno diverso a una situazione che si 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 vedeva già dal bilancio del trenta dicembre duemila e ventidue che sarebbe stata diciamo in in erosione del capitale ma non lo sistema per i prossimi due tre anni ci vuole perché la juve dovrebbe liquidare il bond e fare debiti con le banche invece di semplicemente perché le linee di credito sono già sottoscritte credo ad un tasso di interesse già prefissato oggi andare sul mercato per richiedere un bond rischi di avere dei tassi molto alti visto che i tassi di interesse delle banche centrali sono aumentate quindi necessariamente anche i tassi di tassi di interesse sui prestiti o sui bond sul mercato richiedono rendimenti maggiori basti vedere l'inter zanga sta facendo una fatica incredibile a passare da un tasso di interesse del 12 per cento con octri per cercare di rifinanziare quel bond che gli scade a maggio per cui la juve fatti due calcoli probabilmente in questo momento conviene utilizzare delle linee di credito bancarie a tassi inferiori che è già attive piuttosto che andare a chiedere penso che a me avevano parlato anche della possibilità che fosse exor a prestare volendo può fare un convertibile quindi un bond con un tasso di interesse diciamo di favore che potenzialmente se non ripagato può essere convertito a nuovo equity cioè essere un aumento di capitale potenzialmente mascherato quello che si chiama anche preferred equity in alcuni fondi private equity investono in equity guardate il mister che è lì che lavora in preferred equity con l'internet banking che fa il business mister allora ma tu sei ottimista per domenica perché l'ho colto dalle tue parole questa cosa qui o o sei o sei un po preoccupato perché so che tu sei sincero no no non sono preoccupato cioè mi sono curioso più che preoccupato perché se dovesse andare avanti questa fase di crescita secondo me sarebbe un bel segno ecco e in questo momento non vedo perché è una partita difficile per ambiente tutto però viene dopo delle prestazioni più che buone no perché le ultime prestazioni da Juventus sono delle buonissime prestazioni cioè buonissime buone prestazioni sicuro viene a tre vittorie da Juventus no era un non succedeva giusto sì 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 vabbè eh l'anno scorso ci fu il filotto delle otto diciamo io volevo capire le dimmi Luca ci avessero detto prima del derby che in queste partite avremmo fatto nove punti in queste tre partite prima del derby e saremmo stati una san siro san siro ma c'era anche il derby dopo dopo la partita di Bergamo non è che eravamo proprio eravamo super ottimisti eh vero verissimo no io non ho capito se fatti tutti questi conti questi ragionamenti Davide poi ci salutiamo ma c'è stringi stringi quindi Vlaovic è da vendere cioè non sì però cioè o diventa Vlaovic oppure è un po' mettiamola così è un po' insopportabile per certi versi illogico tenerlo perché leggiamo ancora le cronache di tutti i giorni Juve ancora il Corriere insiste con Vlaovic sul mercato no la situa allora io non faccio analisi tecniche no 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 io parlo di peso parlo di peso di strutture finanziarie è chiaro che l'anno prossimo noi ci troveremo in una situazione in cui probabilmente avremo eh giocatori come Artur che andranno via titolo definitivo eh liberando definitivamente il il bilancio il bilancio di Juventus io mi aspetto che ci saranno un altro paio di cessioni con buone flusualenze siano esse quelle di Ling di Sule se decideremo di cederlo eh piuttosto che di McKennie se dovessero arrivare delle offerte interessanti e il contratto di Alexandro che pesa quasi 12 milioni a bilancio andrà via ehm quindi ci saranno comunque delle situazioni che ci permetteranno secondo me di fare di fare buone 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 plusvalenze e però questo non significa andare a sistemare il bilancio ma su Vlaovic un me un un cinico manager come sei tu dipende chi prendi no dipende dipende poi chi prende al suo posto nel senso che se tu vendi Vlaovic ad una cifra che a te appare buona ovviamente non saranno gli 80 milioni dell'anno scorso ma potrebbero andare bene anche 70 visto che Vlaovic peserebbe meno a bilancio tu con quei 70 milioni vai a comprare un attaccante che pensi ti possa dare di più di Vlaovic faccio un esempio Boniface del Bayer Leverkusen sto dicendo il primo nome che mi viene in mente allora può essere un'operazione che abbia un senso economico e un senso tecnico altra cosa che deve essere valutata che magari se Luca non è sfuggita e Sesco sta facendo panchina all'Ipsia ora io non credo che Sesco possa essere ceduto però chi lo sa in ogni caso altra cosa che è da considerarsi che non si è ancora capito a livello di mondiali di club 20-25 quale sarà la classifica da adottare per decidere io confido io confido nei criteri di infantino lo sai benissimo e non svelare nulla io io sono aggrappato a Gianni infantino proviamo a spiegarla rapidamente non aggiungo altro se se la se adottassero le le classifiche UEFA Juve non ci sarebbe ci sarebbe l'Inter e un club tra Napoli Milan e Roma se invece si adottassero le classifiche FIFA ed essendo il mondiale FIFA sarebbe anche logico che si adottassero le classifiche FIFA allora Juventus per come sono strutturate queste classifiche la Juventus avrebbe un margine di discreta di sicurezza di essere seconda dopo l'Inter e quindi di avere diritto a partecipare al mondiale 20-25 ma infatti Luca Ubel in questo caso per il mondiale per club a cui voi sapete da tempo da tempi non sospetti che io tengo tantissimo cioè per me quella è una il fatto che infantino faccia le regole a un giorno dal mondiale a un giorno dal dal mondiale per club a un giorno dal in questo caso lo voglio vivere come un bene ecco che faccia la regola giusta basta non aggiungo altro prego no quindi insomma c'è anche da considerare questo in più il 21 dicembre altro diciamo che non ha un impatto economico ma un impatto importante da un punto di vista potenzialmente importante c'è la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul tema European Super League anche lì se qualora il giudizio fosse a favore della European Super League si aprirebbe un vaso di Pandora incredibile qui ecco io credo che i prossimi mesi saranno molto interessanti ma vedo una direzione molto più chiara rispetto a tre mesi fa e sono moderatamente ottimista sul fatto che nell'arco di dei prossimi dodici mesi la situazione sarà molto migliore sia da un punto di vista societario che da un punto di vista tecnico e vi permetto di fare i complimenti alla società per come sta lavorando perché secondo me in questi tre mesi ha fatto un ottimo lavoro non solo sul campo ma anche da un punto di vista di di bilancio giovedì 4 gennaio ora è 21 a Torino Juventus Salernitana gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia calendarizzata ovviamente sarà anche visibile in chiaro sapete che si è aggiudicato i diritti della Coppa e quindi ribadisco giovedì 4 gennaio a Torino gara ufficiale Juventus Salernitana Coppa Italia ora è 21 dicevo adesso ti faccio una domanda invece così poi magari come dici tu ci avviamo alla conclusione sì dai che devo liberare il mister che tu per gennaio ad oggi quanti movimenti vedi e dove bella domanda Luca io vedo io io resto al momento stante così la rosa c'è senza situazioni clamorose infortuni e cose vari se uno si fa il crociato un crociato in più crociato in meno sposta uno squalificato a vita in più uno squalificato a vita in meno sposta scusatemi ma lo devo dire perché qua poi cavoli partiamo con delle carte in mano e poi scopriamo che noi non giochiamo col mazzo da 40 giochiamo col mazzo da 34 cioè è difficile perché che puoi farla poi c'è una sosta della nazionale quindi bisogna sempre stare noi dobbiamo fare attenzione alle soste rose di oggi a rosa di oggi situazione per me per me è molto lineare un'annessione a centrocampo nel pensiero Juve un'annessione a centrocampo ossigeno eh la tipologia penso che possa essere su un giocatore che 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 una mezzala sì e un e secondo me una mezza punta mezza punta quindi un per giocare il giocatore no no per giocare per averla per avere una mezza punta quindi un dieci diciamo una carta pazza anche anche con un prestito da valutare anche con un una roba diciamo alla Don Quixote ecco sì sì alla Gascosta dai ma in Dugas Costa è un po' un caso limite se vogliamo ma esistono dei giocatori che speriamo quel tipo di caratteristiche sul quale magari puoi mettere un prestito con una mezza prenotazione magari tu sei anche diffidente rispetto al fatto che possa essere davvero il giocatore giusto per te ma so che Allegri davanti una mezza punta eh diciamo che che dia quella che non c'è che non c'è dentro questa rosa e non credo al momento non credo al ritorno anticipato di Sule perché il giocatore sente non avrebbe bisogno di continuare a giocare la US sente che il giocatore a gennaio tu vai a interrompere un momento un momento esponenziale di crescita quindi non credo a quel tipo di di ritorno il Diz quando dico quel tipo di giocatore pazzo anche presto non parlo di diciottenne chiaro cioè di uno che ha più esperienza che comunque ha già giocato a certi livelli che può avere un impatto quasi sin da pubblico non è Bernardeschi quello che comunque sui nomi eccetera sapete che siamo qua tutti i giorni ci ritroviamo non è detto che non ci si ritrovi domani ragazzi io voglio ringraziare Carlo Pizzigoni che è stato con noi ovviamente e ci ha dato tanti tanto materiale di discussione devo dire eh mister Gatta il grande mister grazie Davide Burani faccio una domanda ho Ken Chies e Chiesa al fantacalcio li metto tutti i due titolari per me per me io metterei uno dei due però la bravura di un manager è scegliere quello giusto ah in attacco non c'ho praticamente nessun altro quindi li metto se non hai nessun altro cosa devi fare grazie a tutti grazie Davide Burani mister Gatta Carlo Pizzigoni e tantissimi di voi Pippo Minolfi Darko Covacevic 18 Cash Giuse ma soprattutto coloro che hanno fatto l'abbonamento per la prima volta in questo momento Ciano Ciano è un nuovo abbonato con Prime mitico quindi associato il profilo di Twitch con il suo a profilo di Amazon Prime e gratuitamente dal nostro dalla nostra homepage di Twitch ha selezionato l'abbonamento ogni mese devi ricordarti di rinnovarlo se invece mettete il l'abbonamento a pagamento è tutto automatico e fin quando non lo interromperete lo troverete Comfortabili number Roby VNV Andrea Abate insomma siete in tantissimi come sempre ancora più di mille ma ci ritroviamo molto presto arriveremo gran bella puntata grazie Gab volevo dirlo io ma sembrava poi narcisista che è stato veramente ciao a tutti buon pomeriggio forza ciao ciao